Ciao, sono Danilo Beltrante, lavoro nel settore turistico, affitto immobili ai turisti, li prendo in affitto dai proprietari e dopo li gestiamo. Facevo questo lavoro anche prima di conoscere Alfio Bardolla, devo dire che adesso lo faccio con semplicità, prima era assolutamente un gran casino, avevo problemi con i dipendenti, avevo problemi con i familiari, avevo problemi con gli amici e questi problemi derivavano dal fatto che ognuno aveva un'opinione su come bisognava fare l'attività, su quello che era giusto, su quello che era sbagliato, io dentro di me sentivo di essere sulla giusta strada, sentivo di fare le cose in maniera corretta e i risultati me ne davano anche atto, la problematica era che per fare un singolo passo ci mettevo tantissimo tempo ed era estremamente difficile ed inoltre ero sempre lì a bisticciare con la famiglia, con la mamma, perché non sapevo neanche io il perché, quindi spinto anche da un desiderio di capire se c'era una strada diversa per ottenere gli stessi risultati, ho deciso di iscrivermi al corso di Alfio Bardolla e devo dire che dal primo momento è stata una liberazione, una liberazione perché finalmente ho visto che non ero l'unico stronzo a pensare determinate cose, ma ho trovato un ambiente ricco di persone che come me avevano energia, avevano voglia, avevano l'intenzione, l'interesse, la voglia di fare e Alfio attraverso i suoi corsi, attraverso le sue parole, i suoi insegnamenti, la sua esperienza mi ha fatto vedere una strada semplice, più semplice diciamo rispetto a quella che io ero in quel momento, con cui io in quel momento ero alle presa, quindi che cosa è successo? Che nel giro di due anni sono passato da 600 mila Euro di fatturato a 2 milioni di Euro di fatturato in maniera estremamente semplice, sono riuscito a automatizzare l'azienda che è un concetto bellissimo che sinceramente ho sentito solamente qui ai corsi di Alfio, cioè vuol dire lavorare per un'azienda non perché quello è il tuo lavoro e quindi da lì prendi i soldi, ma per piacere, vuol dire che sei la persona in più e che anche se non fai quel lavoro lì, comunque continui a percepire un reddito perché il grosso del lavoro l'hai già fatto e l'azienda funziona benissimo anche senza d'età, quindi che dire, faccio il possibile sempre per consigliare questi corsi perché secondo me funzionano tantissimo, non sono, la prima cosa deve venire da noi stessi e Alfio è un veloci, cioè metterà lo sprint, il turbo alla nostra energia, alla voglia di fare.